L'atleta Andrea Giuffrida, dell'Associazione Sportiva e Dilettantistica Sakura di Sciacca, prenderà parte da domani al 17 novembre al 13esimo World Karate Championship. L'evento, in programma a Belgrado, in Serbia, è organizzato dalla World Karate Confederation, una tra le più storiche e prestigiose sigle mondiali. Oltre 800 saranno gli atleti in gara, in rappresentanza di 27 federazioni provenienti da 19 nazioni diverse, che si daranno battaglie per conquistare il prestigioso titolo mondiale. Andrea Giuffrida, che combatterà per conto della rappresentativa nazionale della TKA Italia, è stato convocato dal direttore tecnico Ivano Di Battista. Giuffrida prenderà parte a due categorie individuali e ad una squadre. Nell'individuale sarà impegnato sia nel Kumite Sambon, combattimento sportivo, sia nel Kumite Ippon, combattimento tradizionale che non prevede l'uso delle protezioni e divisioni di peso. L'atleta saccense sarà accompagnato dal tecnico e coach Pippo Giuffrida. Ancora arti marziali con l'importante impegno nazionale per la Karate Judo Club del maestro Pippo Piazza. Sabato 16 novembre, infatti, ad Ostia, il Sodalizio Saccense parteciperà con l'atleta Nicolò Alfano al campionato italiano Filcam per la specialità Kumite. Il giovane Nicolò Alfano gareggerà nella categoria 45 kg per la classe Sordienti e sarà accompagnato e supportato dall'istruttore Michele Catanzaro. Si tratta di un bel banco di prova per il promettente Alfano, già protagonista con alcuni podi a livello regionale. E chiudiamo con la Subacquea. Per la prima volta dalla sua fondazione, l'associazione Sciacca Full Immersion è stata incaricata dalla Federazione Italiana Ufficiale di organizzare l'edizione 2020 del Campionato Nazionale Individuale e per Società di Safari Fotografico Subacqueo. La comunicazione è pervenuta proprio in questi giorni al presidente Santo Tirnetta dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacque e Nuoto Pinnato. Si tratterà della quarantesima edizione del campionato che il Sodalizio Saccense ha deciso di organizzare e proporre a San Vito Lo Capo dal 7 al 9 ottobre 2020, grazie al contributo del Comune Trapanese. Arriveranno dunque da tutta Italia appassionati e i vari campioni regionali. Per Tirnetta si tratta di una bella occasione per festeggiare al meglio i primi dieci anni dalla nascita dell'associazione Sciacca Full Immersion.